45 minuti di puro terrore in 10, chiusi in una stanza a due metri per uno, senza sapere cosa stesse accadendo fuori. È il racconto di uno degli ostaggi che ieri ha vissuto l'incubo della rapina, messa a segno nella banca Sella di Corsa Europa. L'uomo era entrato intorno alle 14.30 per depositare un assegno e uno dei due rapinatori gli ha indicato la strada del bagno. Come sono entrato mi hanno chiesto che dovessi fare e ho detto devo versare un assegno e mi hanno detto si accomodi in bagno. Noi eravamo sotto stagio di uno dei rapinatori che ci controllava, noi che eravamo tutti in bagno, esternamente c'era il direttore dal lato degli sportelli. Dentro avevamo una percezione quasi di sicurezza, nel senso che il rapinatore diceva non vi succede niente, non siamo qui per voi. Ogni cinque minuti si aggiungeva un ostaggio, perché loro per non insospettire la chiusura della banca in un orario che solitamente era aperta hanno preferito fare entrare comunque i clienti dentro. Intanto continuano le indagini della squadra mobile della questura di Avellino, gli investigatori stanno visionando le telecamere in dotazione della banca e quelle installate sulla pubblica via. Il bottino quantificato si aggira intorno ai 32 mila euro.